Ciao, come state? Buona domenica. Oggi sono campagnola. Ebbene sì, mi vedete in questa veste, nella veste di chi in qualche modo vuole ravvivare un po' il proprio balcone e quindi avendo comprato io queste bellissime primule, tutte colorate, che adesso mi tocca sistemarle nei vasi. Come sempre, poi mi manca la materia prima, ma vabbè, mi organizzerò diversamente. Bene, perché siamo qui? Beh, intanto perché i fiori ci riportano un po' a quello che succederà martedì mattina perché 8 marzo, festa della donna, quindi parleremo sì di festa della donna, ma io vi devo raccontare come è andato il mio corso in sauna e insomma e tante altre cose, ma comunque sia, diciamo che il percorso sarà quello comunque di raccontare anche un po' di fiori, di colori, di profumi, come quelli che ci sono adesso in casa mia. E poi che dire? Beh, intanto se avete voglia, vi piacerebbe vedere anche le foto del vostro giardino, dei vostri balconi o semplicemente i fiori che magari in qualche modo regalerete e magari postarle anche sulla community di Patreon perché lì appunto ci sarà un servizio dedicato proprio ai vostri fiori. E diversamente, insomma, come sempre scrivete e parleremo di questo argomento e di tanti altri, per cui io vi do appuntamento a martedì mattina, mi raccomando, non mi troverete con le forbici, non mi troverete con i fiori, ma troverete me, magari Floreale, no, non lo so, diciamo così, va bene. Nel frattempo passate una buonissima domenica sera e poi un buon inizio di settimana, come sempre 9.30, che aspettano, anticipiamo, 9.20, vi aspetto puntuali, so che sarete tantissimi e so capire, come sempre, tanto da raccontarci. Un bacio, ciao, ora vado, devo anche andare a comporre la terra, mi è finita, mamma mia, non sono per niente brava a organizzare in questo campo. Vabbè, se qualcuno di voi fosse giardiniere, magari vi può dare anche qualche indicazione su come fare e come mantenere più a lungo, insomma, questi bianchi sono le pinule. Ciao, grazie, martedì, è il mio primo anno, io proseguo, vado. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.